Sono qui a Bobo Summer Cup e sto qui con Andrea di Skipper. Ciao Astrid. Ciao. Perché avete scelto di venire qui? Ma Skipper ha scelto di venire alla Bobo Summer Cup perché comunque è un evento in linea con la filosofia di Skipper. Che? Che è divertimento sano, colorato e poi anche per uno scopo benefico perché tutto quanto va divoluto alle popolazioni del terremoto e quindi essendo anche un'iniziativa benefica Skipper è contentissima di far parte di questa iniziativa. E raccontami, avete sviluppato un slogan per questo, per il succo, no? Certo, Skipper durante questi giorni della Bobo Summer Cup è il succo dei bomber e delle bomber anche. Grazie, grazie. E tu mi hai già raccontato che ti sei divertito a creare queste cose divertenti che la gente può giocare con. Sì, infatti qua noi abbiamo molte attività come per esempio la nostra piscina, il Dunk Tank, dove la gente può divertirsi. Che io ho promesso che è... Eh, tra poco ti facciamo salire sopra e ci divertiamo anche con te, infatti. Va bene, dai, lo faccio anch'io, allora pago meglio anch'io. E a te, Astrid, ti piace il nostro succo Skipper? Sì, moltissimo. Ieri mi sono bevuta tutto il frigo di cocco, no? E a te, quale è il tuo preferito? Il mio preferito è l'ananas. Ti puoi dire? Ti puoi dire? O devi essere... Io preferisco molto l'ananas, che quest'estate mi rinfresca particolarmente l'ananas. Guarda, qui ne puoi bere quanti ne vuoi. Grazie, i ciupiti... Ne prendiamo uno? Come quello di Bobo. Esatto, questi sono i ciupiti come di Bobo. Che si vince, però questi sono gratuiti. Sì, e questi sono ciupiti di succo di frutta. Che gentili che si sente. Cin cin. Cin cin. Alla Bobo Summer Cup. Alla Bobo Summer Cup. Alla Bobo Summer Cup.